Comunque il dame è il meglio assegnato, perché ci vuole più squadra d'arbo, perché è già un muro solo. Chi è il muro? Zia, chi è il muro? Chi è il muro? Sai, chi è il muro? cuidado, vieni qua! Sì, devo fare! Sì! Fai, 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 fai! Vieni qua! Fai, vieni qua! ma se basta dov'è? vicino Casitia Casitiello d'olio? andiamo al banello a dove è Casitiello? un po' prima qui vicino al banello si è giusto pure a mangiare ma io gioia anche spesso a la forte non vuoi proficcio? vado a mangiare spesse volte qua, agio lo camarada ah si? perché non era meglio stava vicino alla fondo di casa si vado, agio lo camarada, agio lo camarada oh cugino tu vado, agio lo camarada agio lo camarada agio un po' Grazie a tutti. Ma tu hai sciuto? Ma adesso tu hai ribambito? Ma sei ribambito davvero? Ma tutti i quali devono mandare? Prendi il pallone piuttosto. Grazie a tutti. 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 . a tutti.